Buongiorno, siamo qui oggi a presentarvi la nuova DFSK Glory iX5, macchina prodotta in Cina, costruita nei più moderni stabilimenti del marchio e importata in Italia dal gruppo Giotte Vittoria Automotive, che distribuisce già i pick-up della sua detta marca. Per quanto riguarda la Glory a 1.5 benzina, 150 CV con il cambio automatico CVT che ha 220 Nm di coppia, un motore su cui è possibile installare l'impianto GPL BRC, lo installiamo noi personalmente presso i nostri riparatori autorizzati. La macchina è un SUV coupé dell'ultima moda, riprende quelle che sono in tendenza di mercato, riprende le linee europee, è costruita con delle definizioni di elevatissima qualità, dotazioni full optional, cerchi da 18 podici, diamantati, maniglia in tinta, specchietti richiudibili, quando si viene la macchina si chiudono insieme, è dotata, ad esempio, il veicolo che abbiamo qua, l'abbiamo dotato anche dei vetri oscurati, li abbiamo fatti installare noi nel nostro deparatore di fiducia. Abbiamo i cerchi appunto, vedete il particolare dei cerchi bruniti con le ruote da 18 podici, freni a disco davanti e dietro, tutte le finiture delle cremature sotto i fianchi, per quanto riguarda il cofano, abbiamo il pulsante con l'apertura del cofano elettrica, abbiamo aperto il cofano, qui troviamo l'alloggiamento del GPL installato appunto da Marro Automobili, la bombola è di 60 litri, perciò ha un'autonomia elevata, cofano di ampissime dimensioni, dotato di sedile posteriore sdoppiato, 60-40, possiamo caricare gli sci e alloggiare ancora due persone posteriori, lo chiudiamo sempre con il pulsante elettronico, la macchina è dotata di sensori di parcheggio anteriori e posteriori, ha di serie un tettuccio apribile a dotazione elettrica, vediamo il particolare dei sensori di parcheggio, ha il tettuccio apribile come diceva la regolazione elettrica, ora ve l'apro, la vediamo all'interno, passo dall'altra parte così che vi faccio vedere anche il quadro, apertura, apertura keyless, start button con la chiave, vediamo il display modernissimo dell'alloggiamento del controllo climatizzatore automatico naturalmente, display 9 pollici con retrocamera di parcheggio di serie, il quadro analogico dove si prendono tutte le informazioni, alloggiamenti, gli alloggiamenti per i portafogli piuttosto che il telefono o le altre cose che vogliamo nascondere, portabicchieri, il controllo della stabilità, il cambio automatico è di nuova generazione, si integra bene nel cruscotto, gli interni sono rigorosamente in pelle, pelle che è ecopelle dotata di ottime finiture cucite bianche con la scritta che distingue l'autovettura, questo è il modello che poi si identifica con Fengong, sul volante troviamo i controlli del cruise control, i controlli del bluetooth, i comandi radiovolante, la vettura è nuova, garantita due anni, l'impianto GPL naturalmente lo installiamo noi, è completa, accessoriata, è infinita, è dotata di accessori di sicurezza per quanto riguarda l'ausilio alla partenza in salita, l'ausilio frenata in discesa, ho detto che ho già la retrocamera di serie, diciamo una bella macchina con una buona massa perché sono 1.600 kg di massa, c'è tanta struttura, dei consumi che con l'installazione dell'impianto GPL diventano visibili, c'è comunque un motore brillante con un costo di gestione veramente basso, accessibile e vi invito a venire a vedere di persona e toccare la qualità di questa vettura perché è veramente elevatissima, sanno fare le cose fatte bene queste aziende. La DFSK ha fatto un bellissimo lavoro, il distributore Giotty Vittoria Automotive ci ha dato un mandato per la provincia di Cuneo e per tutto il basso Piemonte, siamo distributori, vendita, assistenza, ricambi, siamo Mar Automobile, l'azienda che esiste da 53 anni ormai, da sempre il nostro obiettivo è la vostra soddisfazione. Buona giornata, vi aspetto!